Una domanda, sì. Allora, se non c'è l'idrogeno... Aspetta, no, però con il microfono, vabbè. Vabbè, se il filo non ha subito idrogeno, basta, è finito il discorso. Quindi, due cose. Uno, potresti provare con un filo precaricato, potresti caricarlo elettroliticamente, per esempio, e poi tapparlo con uno stronzio. Vabbè, quel lì è molto più lunga la storia. Sì, mercurio. Oppure mercurio, come qualche sistema per isolarlo, e quindi rifare l'esperimento. L'altro suggerimento che volevo dare è, se rimani sopra il punto di credito, sei nell'altra fase. Ora, io mi aspetterei che avvenga qualcosa nella transizione di fase. Allora, potresti fare delle... Hai fatto anche questo? Cioè, il passaggio sul punto di transizione l'ho fatto, perché lì il software mi permette di variare la potenza, di giocare con la potenza, i tempi, tutto quanto. Ho fatto parecchie escursioni intorno a tutto, non avevo visto niente. Sì, però se non c'era il tempo, ma io dicevo di rifarlo con il filo carico. Hai fatto l'esperimento Blauk. E poi però fare queste transizioni di fase continue. Grazie.